La Camera di Commercio di Asti ha reso noto i vincitori della DUIA 2018. A questo concorso enologico nazionale hanno partecipato anche molte aziende della provincia di Alessandria. Abbiamo il presidente Gianpaolo Coscia della Camera di Commercio di questa provincia. Ecco, com'è andata per questo territorio? Beh, direi che è andato molto bene. La DUIA è un concorso nazionale e quindi ha un riconoscimento effettivo importante. Devo dire che le aziende del territorio che hanno partecipato a questo concorso dell'Alessandrino sono nove circa le aziende che hanno avuto questo ambito riconoscimento. Devo dire che è trasversale nel senso che quasi tutte le zone del territorio dai Colli Tortonesi al Gaviese, al Casalese, all'Ovadese, a Quese sono stati coinvolti in questa premiazione e quindi per noi e per i produttori vitivinicoli dell'Alessandrino è un ottimo riconoscimento. Un'edizione, quella del 2018 della DUIA, che sarà probabilmente l'ultima che vedrà separate le Camere di Commercio di Asti e di Alessandri un altro anno unite. Ecco, per l'edizione del 2019, quindi un'occasione in più avere queste due Camere unite? Beh, assolutamente sì, stiamo parlando di due territori vocati dal punto di vista vitivinicolo. Come Alessandria c'è il concorso Marengo, Asti alla DUIA, che è il nostro provinciale, la DUIA è nazionale, quindi continueremo senz'altro a perseguire la linea di questi prestigiosi concorsi e da un altro anno sarà effettiva quindi l'aggregazione tra Alessandria e Asti e magari penseremo, oltre a questi ambiti e riconoscimenti, magari a creare anche un più ambito premio internazionale. Quindi manterremo chiaramente le due iniziative cercando assolutamente di migliorarle. Grazie a tutti.